Non penso che si possano avere delle esitazioni sull'idea di partecipare alla manifestazione di Piazza Navona, non si possono avere delle esitazioni perché il momento è drammatico, perché il momento è urgente e perché il momento è quello in cui alcune cose che non esiterei a definire nuove stanno avvenendo persino nel centro-destra, dove non si tratta più alla vecchia maniera di dire che forse si possono fare delle cose insieme, ma si sta definendo una nuova maniera nella quale qualcuno ricomincia a destra a ripensare con la propria testa, a giudicare con la propria coscienza e a valutare i fatti per quelli che sono. Per esempio l'immenso schiacciamento di tutta la destra italiana verso il populismo xenofobo della Lega da un lato e verso il protezionismo monopolista, personale ed esclusivamente individuale e di affari propri del Presidente del Consiglio. Rispetto a questi due fatti ci sono dei segnali di vita e di indipendenza che sono molto importanti, se c'è un momento nel quale è essenziale che l'opinione pubblica italiana dia anche attraverso le sue rappresentanze politiche, un segnale di vita e di attivismo è proprio questo. Esercitarsi in distinzioni sottili per vedere se per caso spostandoci un po' di qua o un po' di là si fa meglio è certamente fuori posto perché non corrisponde all'urgenza del momento, non corrisponde alla gravità del tempo. Il fatto che ci sia un ritorno di partecipazione della società civile alla quale fanno seguito le presenze e la partecipazione dei partiti non può che essere visto come un fatto estremamente interessante perché vuol dire paese sveglio, paese vivo e diciamocelo pure che un paese sia vivo dopo un'azione così pesante di narcotizzazione e di isolamento dalle notizie, di disinformazione e di avvolgimento dentro una continua e ininterrotta propaganda. Il fatto che il paese sia vivo è un segnale straordinario, a questo segnale bisogna dare enfasi, evidenza, un partito che è chiuso e superato il suo congresso, vuole dare, e effettivamente dovrebbe voler dare, l'impressione di essere finalmente finito nella sua costruzione e pronto nella sua agibilità politica e dovrebbe cogliere questa prova e questa occasione come una grande prova e occasione di agibilità politica, che è di strumento politico pronto, agile, vivace e che non si lascia gravare di prudenze che finiscono per essere dei veri proteggimenti di impegno e di reazioni di percorso. Dunque spero, spero con tutto il cuore che finisca l'epoca di un partito democratico appartato e immodestito da se stesso, come dire no, non è per me, non è da persone per bene, quando si tratta di una grande manifestazione democratica, vuol dire tra l'altro non sapere o non voler prendere la grande elezione che l'America delle ultime elezioni dell'altro anno ci ha dato, in cui l'intera società civile in tanti livelli, da quello culturale a quello manageriale, da quello popolare a quello dei gruppi particolari, si sono mobilitati affinché l'America avesse una presidenza diversa, affinché cambiasse qualcosa che sembrava immutabile, pesantissimo e anche molto potente e che è infatti cambiato. E anche di chi ha questa occasione, può avere questa occasione, non può avere l'assenza il partito democratico, vuole il partito democratico essere il grande assente, io non credo, dovrebbe aspirare ad essere il protagonista, spero con tutto il cuore che lo sia.